Buonasera ragazzi! I due protagonisti di Bob e Bob hanno avuto brutte vicissitudini e belle avventure. Ebbene, si cambia completamente genere con un quarto titolo dedicato a loro. Bene, guardatevi la recensione e scoprite che gioco è. Ciao! La Taito era una casa di produzione molto affermata nel campo dei videogiochi. Nel 1994 ebbe l'idea geniale di prendere i due personaggi di Bob e Bob e trasportarli in un cabinato completamente diverso dai precedenti episodi, facendolo diventare da platform a gioco rompicapo e creò Puzzle Bubble. Questo gioco non ha una trama. Infatti, una trama qui non ha alcun senso. Praticamente abbiamo un motore grafico proprio perfezionato che è preso da The Story of Bubble Bubble 3 ed è stato migliorato. Abbiamo tantissimi colori a schermo e bellissimi effetti di ombri e luce. Insomma, è stato fatto proprio un ottimo lavoro. Una bella novità che hanno introdotto in questo gioco sono le animazioni in stile giapponese. Ad esempio, quando uno dei nostri personaggi guida il cannone è una cosa che fa diventare il gioco molto carino per ogni età. Sul lato del sonoro, invece, abbiamo soltanto... tre effetti sonori. Uno quando lanciamo le palline colorate, un altro quando esplodono le palline colorate e l'altro quando scende il soffitto. Ma del resto non sono molto importanti. Importante è la musichetta di sottofondo. È una musichetta molto allegra, riesce a dare un senso di allegria a chiunque l'ascolti e soprattutto è perfetta per accompagnare questa atmosfera da gioco rompicappo. Sul lato della giocabilità, Puzzle Bubble, è ambientato in un'area di gioco rettangolare verticale in cui ci sono posizionate delle biglie di vari colori e il nostro compito è, con il nostro cannone alla base, di lanciare una palla colorata verso gli esse, formarne almeno tre insieme in un'unica fila e farle esplodere. Perché se non le buttiamo giù, il piano scende e perdiamo la partita. Insomma, è una modalità di gioco che potrebbe sembrare molto semplice, ma il vero pezzo forte è la difficoltà, che è ben calibrata e ci sono alcuni livelli in cui la difficoltà è molto alta e per cercare di buttare giù le palline colorate bisogna pianificare molto bene la propria strategia e fare tiri molto precisi. E ad esempio si è notato soprattutto nel livello 8, 16 e 26. Questo gioco è formato da bene 30 livelli ed è difficile sicuramente portarla a termine. Si può giocare anche in due giocatori, solo che nella modalità singolo giocatore il nostro obiettivo è buttare giù tutte le palle in un unico quadro e andare avanti con l'altro livello. Invece nella modalità giocatori, due giocatori, ognuno dei due giocatori ha il proprio campo, visibile su schermo condiviso. Ha una stessa combinazione di palle colorate e niente di più. Vince chi riesce a far sparire più in fretta le palline colorate. Ma si può anche giocare contro il computer. Questo gioco risulta essere l'ultimo colpo di genio della Taito prima della sua discesa verso il basso. Perché dopo questo gioco Puzzle Bubble uscito in arcade ne usciranno tantissimi altri seguiti per svariate console dell'epoca fino anche adesso. Ci sono i remake, solo che non sono proprio fudegni del primo incredibile episodio. Se non l'avete ancora provato Puzzle Bubble non avete scuse per non averlo provato. È un gioco divertente, ancora attuale e saprà divertire tutta la famiglia. Ma soprattutto piacerà molto anche alle donne. È uno di quei pochi giochi che piace anche al sesso femminile. Con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.